Sono 57.890 i positivi ai test covid nelle ultime 24 ore in Italia su 538.131 tamponi effettuati con un tasso di positività al 10,7%. Secondo i dati del Ministero della Salute 320 le vittime in un giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari 14.562, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.037. Grazie a tutti.